Questo bianco così verdolino che vedete qua viene dalla Valle d'Aosta ed esattamente da Aymavie che è una piccola cittadina proprio in mezzo alle montagne. Il produttore si chiama Lecrette ed è Costantino Charrer che è uno dei padri della patria del vino valdostano, una piccolissima produzione ma di alta qualità. Questo in particolare è un Petit Arvin che deriva il suo nome dal fatto che i grappoli dell'uva hanno l'acino piccolo, quindi Petit Arvin o Arven secondo di come lo volete pronunciare se alla francese o se un po' più alla Valdostan italiana. Bene, questo è un vino piacevolissimo del 2019, delle Crette, è un vino molto fresco, molto piacevole, proprio un classico bianco di montagne. Proviamo a sentire i profumi che sono dei profumi angromati, sanno un po' di limone di sorrento, di limone di amalfi, di cetro, poi di fiori bianchi. Sembra quasi che con il profumo voglia ricordare invece dei frutti molto più mediterranei essendo invece in mezzo alle montagne. Proviamo ad assaggiare. Molto molto sapido, salino, una bella acidità, fresco, piacevole da bere. Un vino che si abbina un po' con tantissimi piatti, con i risotti, con la fonduta ad esempio, che è una delle cose tipiche della Valle d'Aossa, ma anche con tutti i piatti della cucina marinara italiana che vi verranno in mente. Grazie a tutti.